L'intervista doppia, uno prima Come ti chiami? Mi chiamo Paolo, no scherzavo, purtroppo adesso Silvia Soprannome Tano Siscio Non vorrebbe Quanti anni hai? 17, però tra poco 18 15 Professione? Youtuber non è una professione, studente nemmeno perché non studio, quindi non la facente Scrittrice Tre aggettivi per definirti Simpatica, solare e generosa, quando voglio Stupida, fantastica e simpatica Il tuo punto debole E' geloso E mi incazzo troppo facilmente, per cazzare Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Baccherai di Lamborghini e villa in tutto il mondo Eh, è una macchina, ho sempre bisogno della Ferrari, quindi la Ferrari Come ti vesti di solito? Non so come rispondo, beh Pantaloni o gli skinny o se c'è caldo i pantaloncini, maglietta o felpa, perché so fighe, o maglietta corta Tipo pantaloni skinny, quelli tutti attillati, con i strappi sui ginocchi e poi felpe Cosa ti dicono più spesso? Mi insultano, specialmente Silvia Che solda uno La parolaccia che dici più spesso? Dovrà bimparla, quindi... Poi non mi vale dirla perché sono divertente Il giorno più bello della tua vita? C'erano uno ma non si può dire Quando ho preso il mio primo cane? E' quello più brutto? Quando ho quello che ho preso Silvia E' un giorno più brutto, sempre felice Ti hanno mai picchiato? Fortunatamente, no regà mi giuro, a me non l'ho mai fatto a botte, né da piccolo né adesso Oddio sì, alle medie, me menavano Per essere più informati su questa vicenda, acquistate dove c'è la Natalia Una cosa che ti rende felice? Guardare la Roma che vince Fare video La prima cosa che fai al mattino? Me lavo, do le capocciate al tetto, invece ho il letto Eh, prendo il telefono, controllo le notifiche L'ultima cosa che fai la sera? Me lavo e dormo e sto a sei ore su Instagram Ma te te la fai al giorno? No, io fuzzo Sto al telefono sempre Cosa cambieresti del tuo corpo? Il naso? Il fatto che sono bassa, quindi SDV Una persona che stimi? Lucianino Spinelli Me stessa Un coglione? Quello destro Sergio o Alessio? No, Alessio è il primo Le tre cose che guardi di un uomo o di una donna? Culo Culo Gli occhi e i capelli Non so perché sono fissato sui capelli I capelli I denti Poi tipo se è grasso Cioè non lo so, tipo il fisico Una persona che ti attrae fisicamente? Quella di prima Quella di prima Dallas, capron Dallas Hai mai tradito? No No Ti è mai stato innamorato? Purtroppo sì Sì Hai mai pensato al suicidio? No No Che vita dopo la morte? Datatemi in cortello, lo vedo Boh Come vorresti morire Che cazzo Ma che cazzo le domande prendi? Non vorrei morire Oddio schiatta Mentre dormo Salute il tuo amichetto Vaffanculo Ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Adesso vieni qua Vieni Io Alessietto spero che questo video vi sia piaciuto Io vi ricordo ragazzi di seguirci sui nostri profili E sulla nostra pagina ufficiale Sivessio Official Link qua Link in descrizione Mi raccomando ragazzi Seguidici E niente Non è più alta di me Solamente io sto ginocchile sulla sedia Precisiamo Perché se ne io mi alzo E E Ciao Dovevo farlo È bellissimo Vedete le cose che guardi di uno O di una donna? Di uno o di una Zitta C-C-C-Cereali Kellogs